Avverrà tutto in una giornata il confronto sull'ampliamento del termo valorizzatore di San Zeno. No dunque alla richiesta avanzata alla Regione Toscana dal Comitato Salute e Ambiente di Civitelle e dalle ACLI di San Zeno che avrebbero voluto un'inchiesta pubblica con la più ampia partecipazione. Il contraddittorio avverrà in un'unica sessione nella sede della Regione, a Firenze, all'interno della stessa giornata. Potrà partecipare solo rappresentante di ogni comitato movimento che ha presentato osservazioni a suo tempo contro il progetto. La sessione sarà moderata da un funzionario. Dovrà essere anticipata alla Regione una formulazione sintetica della problematica ambientale di interesse e comunicato in anticipo il nominativo della persona che si presenterà al contraddittorio che avrà a disposizione 15 minuti per esprimere le proprie argomentazioni alle quali seguirà la risposta di Aisa Impianti. Sarà poi redato un verbale che sarà firmato da ogni partecipante per accettazione. Si è scelto a quanto pare di non procedere con l'inchiesta pubblica per evitare le relative spese a carico dei contribuenti. Secondo Fausto Tenti, da sempre critico nei confronti dell'ipotesi ampliamento, lo scenario futuro, con una sorte di asse politico trasversale, con lato unico regionale, rimarranno in vita in Toscana solo gli impianti di Poggi, Bonzi e San Zeno che in questa ipotesi vedranno smaltiti rifiuti provenienti dalle altre zone della Regione.